Il ballottaggio era scontato, i protagonisti probabilmente no. A Manduria l'esito del voto, come previsto, è rimandato di due settimane, considerato l'alto numero di candidati sindaci e di aspiranti consiglieri comunali. La cittadina messapica ha dimostrato una grande voglia di riappropriarsi delle istituzioni democratiche. Non si votava per il Consiglio Comunale, infatti, dal 2013. Nel 2018 è arrivata l'onta dello scioglimento per infiltrazioni mafiose. Adesso però si guarda al futuro. Il primo candidato a conquistare il ballottaggio è Gregorio Pecoraro, già eletto sindaco due volte nel 1994 e 1998 a capo di liste di centro-sinistra. Stavolta si è presentato invece alla guida di un raggruppamento civico con le liste Pecoraro-Sindaco, Movimento Democratico con Manduria, Città Più e Movimento 5 Stelle. Per lui il dato ufficiale nel totale delle 30 sezioni è del 26,93%, con la lista Pecoraro, primo partito a Manduria con l'11,67%. Con lui al ballottaggio è il candidato del centro-sinistro ufficiale, Domenico San Marco, PD, Senso Civico, Feder Civica, Manduria Migliore Scelta Comune, accreditato del 25,14%. Primo degli sconfitti è Lorenzo Bullo, candidato di Fratelli d'Italia, Lega Salvini, Progetto Manduria, Insieme per Manduria, Forza Italia e Puglia Popolare, che si ferma al 23,44% e resta fuori dalla contesa finale. Nelle posizioni di rincalzo, Cosimo Breccia, candidato di Manduria-Noscia e Rinascita per le Marine, ha sopravanzato Dario Duggento, candidato sindaco per 5 liste di area centrodestra, Azione Messapica, Manduria Civica, Manduria nel Cuore, Forza Manduria e Manduria Libera. Ultimo posto per Leonardo Moccia di CDU e lista Moccia.